Ciao a tutti, sono Matteo Brusamonti, attore, doppiattore, fotomodello e in questa speciale circostanza anche lettore. Mi è stato chiesto infatti di leggere per voi un brano che potesse portare un po' di speranza o un brano che potesse portare un po' di allegria in questo triste momento che sta attraversando la nostra bella città. Ma siccome io sono un sovversivo credo che non farò nessuna di queste cose e invece leggerò per voi un breve frammento di un lavoro più ampio che scrissi qualche tempo fa intitolato Criceto Farabutto. Racconto autobiografico della mia problematica infanzia immaginaria per giustificare questa simpatica trovata con un pezzo scritto per caso. Nella prima metà degli anni novanta era di modo avere in casa come animale domestico un Criceto. Non so perché ma lo avevano tutti, almeno dove vivevo io. Da bambino avevo una personalità insignificante e non avevo amici. I miei compagni trovavano più interessante guardare il Criceto. Allora mi inventai un amico immaginario, il Carletti, un saggio e taciturno anziano con la coppola che si spostava sempre in bicicletta anche per muoversi al chiuso. Con il Carletti potevo essere finalmente me stesso senza avere paura che mi giudicasse noioso. Dopo due giorni però il Carletti sparì. Disperato lo cercai dappertutto e lo trovai purtroppo a guardare il Criceto. Allora mi chiusi in me stesso e dopo aver vagato a lungo nei corridoi bui della mia mente trovai il mondo della fantasia. Incapace di riuscire in qualsiasi attività manuale anche la più semplice tipo pettinarsi. Iniziai a scrivere e a mettere in scena ciò che scrivevo e qualcosa nella mia vita cambiò. Finalmente i miei compagni si accorsero di me. Mi cercavano e venivano a vedermi mentre rappresentavo ciò che avevo scritto. Ero al centro della loro attenzione poiché dalla mia mente nascevano storie e personaggi che li affascinavano e li divertivano. Finalmente ero qualcuno. Finalmente anche io esistevo. Ma durò pochissimo. Di lì a poco infatti anche il Criceto si mise a scrivere. Ecco questo per dire che se ce l'ho fatta io ad arrivare dove sono allora possiamo davvero farcela tutti a ripartire quando tutto questo sarà finito. E badate bene. Ve lo dico perché io sono un tipo davvero particolare. Pensate che la prima volta che ho fatto l'autostop sono stato brutalmente picchiato. Avevo usato il dito sbagliato. O per farvi un altro esempio sono uno che non ha ancora ben capito questa storia della raccolta differenziata. Voglio dire che senso ha dividere i rifiuti tra bianchi e colorati. Io proprio non capisco. Quello che posso dirvi è che come diceva Mark Twain l'umorismo è una gran cosa. È quello che ci salva. Non appena spunta tutte le nostre irritazioni, tutti i nostri risentimenti scivolano via e al posto loro sorge uno spirito solare. Perciò quando sarà il momento di ripartire cerchiamo di farlo con un sorriso. Vi abbraccio. Ciao.